Presentata questa mattina all'auditorium Sirena di Francavilla al mare, la seconda edizione della Michettiana Running, la mezza maratona e camminata sportiva organizzata dall'associazione Team Centro Fai da Te di Claudio Coccia. Più di 350 iscrizioni tra atleti abruzzesi e di fuori regione, aperta anche alle famiglie per un bel momento di sport e di condivisione. Sì, infatti dopo la prima edizione del 2019 per le note vicende ci siamo dovuti bloccare, però adesso ripartiamo ancora con più grinta, più voglia, più determinazione per lanciare finalmente questa che deve essere una manifestazione della città che coinvolge oltre allo sport tutta la cittadinanza. Per realizzare qualcosa di importante è necessaria la collaborazione di tante parti, ecco l'amministrazione comunale qui che sostiene i nostri progetti veramente da tanto tempo e le aziende, le nostre aziende che, come dire, danno l'opportunità di far svolgere queste manifestazioni che hanno una motivazione di crescita culturale per la città. Voglio ringraziarle tutte perché operano, danno un sostegno a qualcosa di buono, a qualcosa di sociale, a qualcosa che sicuramente ricadrà negli interessi della cittadinanza e sicuramente anche delle loro attività. Quindi un grazie veramente molto sentito a tutti quelli che danno l'opportunità di realizzare questi eventi. A tale proposito interviene anche il consigliere comunale Mirko Di Muzio. Assolutamente, noi crediamo moltissimo nello sport e facciamo sempre gli straordinari per permettere alle associazioni sportive della città e non solo di poter avviare questo tipo di attività in cui c'è un connubio fondamentale perché noi conosciamo Francavilla come città di arte e cultura ma non solo arte e cultura ma anche di sport e stiamo cercando di fare dei piccoli passaggi per arrivare a portare Francavilla al centro di questo percorso perché lo sport e i grandi numeri che ci permette di fare l'amichettina e ringraziamo Claudio per l'impegno che quella sua associazione porta a fare questo tipo di iniziative, permette a Francavilla di essere conosciuta e diventa comunque un po' attrattivo e turistico per quanto riguarda lo sport e il turismo legato allo sport. Non poteva mancare il commento dell'assessore allo sport del comune di Francavilla al mare, Williams Marinelli. È una bellissima vetrina perché chiaramente porta gente nel nostro territorio, sul nostro territorio, quindi chiaramente un doveroso grazie all'associazione che ha organizzato questo evento che ripete costantemente ogni anno questi eventi. Io da poco ho preso l'assessore dallo sport ma sicuramente seguirò la linea dell'assessore che mi ha preceduto Rocco Libertini che ha saputo fare bene, quindi seguirò la sua linea. Sappiamo quanto sia importante lo sport che è sicuramente elemento di aggregazione, elemento di socializzazione per cui benvengano questi tipi di eventi sul nostro territorio. Scuola e sport vanno ovviamente a Braccetto e a rappresentare il CEO scientifico Volta di Francavilla al mare la professoressa Libera Toscioni. Sì, certo, perché ovviamente quando parliamo della formazione culturale dei nostri studenti ovviamente ci riferiamo anche a una formazione tra virgolette fisica dei nostri ragazzi e quindi sicuramente la presenza della scuola credo che possa portare un contributo importante.